Musica Continua la felice collaborazione fra Marco Formichetti e Patrizio Maria d'Artista con il nuovo brano La vita che vorrei, uscito pochi giorni fa attraverso il videoclip ufficiale prodotto da Sincronie Musicali. Sono molto felice di presentarvi il nostro ultimo lavoro, è un brano nato come sempre dal confronto costruttivo con Patrizio, con il quale ho lavorato sviluppando e modellando al meglio l'idea originaria che avevo sul pezzo, racconta Marco Formichetti. Dopo la bellissima esperienza dell'album Direzione Libera, sono entusiasta di tornare con un brano al quale tengo molto, poiché racconta del mio vissuto, della quotidianità, delle paure e delle ambizioni che accomunano molti della nostra generazione. Direzione Libera è il primo album del cantante datato 2016, dal quale sono stati stati tre singoli, Non dirmi mai di no, Il tuo ritorno è ora o mai, tutti scritti e prodotti con d'artista. Aveva già evidenziato una forte intesa artistica fra i due autori. Con Marco ci accomuna il forte desiderio di realizzare progetti che guardino oltre il risultato discografico e che ci permettano di condividere con chi ascolterà il pezzo significati e attitudini che sono maturati attraverso i nostri percorsi di vita e la passione per questo mestiere di giara d'artista che prosegue. Poter lavorare a realizzazione di questo progetto con quei collaboratori e amici che da sempre ci affiancano è ogni volta una positiva occasione di confronto e condivisione. Il brano La vita che vorrei sarà presto disponibile ed acquistabile su tutte le piattaforme digitali. Per info e aggiornamenti è possibile visitare il sito web ufficiale dell'artista www.marcoforbichetti.it www.marcoforbichetti.it